Benvenuti a meteogiuliaci.it. Domenica 2 giugno, miglioramento direi consistente su gran parte dell'Italia perché si attenua il flusso di aria fresca e inestabile inviato sull'Italia da quel vortice di bassa pressione che staziona da più giorni a nord-est dell'Italia. Bene, andiamo a vedere l'immagine del satellite virtuale, vedete sì, ci saranno delle nuvole, soprattutto al centro nord, ma vedremo con pochi fenomeni. Infatti vediamo la situazione prevista per domenica mattina, vedete che i simboli di sole finalmente predominano sui simboli di nuvole o di pioggia, al mattino qualche pioggia sulle Alpi, qualche piovasco nelle zone interne del centro, sul Salento e sull'Alta Calabria, ma niente di più. Andiamo al pomeriggio, ovvio che al pomeriggio si accentuano il numero di temporali e di rovesci per effetto del riscaldamento pomeridiano, quindi rovesci sparsi soprattutto sulle regioni alpine, anche sotto forma di temporali, qualche rovescio anche nelle zone interne del centro o comunque molte schierite, molte aree dove il sole si farà vedere. E siccome si farà vedere, se andiamo a vedere le temperature, vedete temperature in deciso rialzo rispetto alle temperature che avremo oggi venerdì e sabato, temperature intorno 22-25 gradi al nord, 20-24 al centro, 20-25 al sud e sulle isole maggiori. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto. Ancora un buongiorno.